La recessione a cui stiamo andando incontro potrebbe essere un'opportunità che si verifica una volta in una generazione per costruire ricchezza, perché ora potrebbe essere uno dei momenti più facili per aumentare in modo significativo il tuo patrimonio netto. Dopotutto c'è un detto popolare che dice che le fortune si fanno durante le recessioni e le crisi, e non ci vuole molto per capire che ci stiamo già dirigendo verso quel punto. Anche se questo suona negativo, il fatto è che le recessioni si verificano regolarmente, e se utilizzate correttamente è possibile prepararsi per sfruttare alcune incredibili opportunità e sconti che le recessioni forniscono. Tieni a mente che persino Warren Buffett afferma che le cattive notizie sono l'amico migliore degli investitori. Quindi parliamo esattamente di ciò che ci si aspetta a cada nei prossimi 12-24 mesi, dei migliori vantaggi che potresti sfruttare oggi e di cosa puoi fare per assicurarti di essere nella miglior posizione per guadagnare il più possibile. Ovviamente per poter sfruttare al meglio le nozioni che andrei ad apprendere, devi iscriverti e mettere un mi piace al video, quindi non rischiare e fallo subito. Prima di parlare delle migliori opportunità imminenti, devi comprendere rapidamente ciò con cui ti troverai a fare i conti. Per iniziare dobbiamo capire cosa sia una recessione in generale. Di solito le recessioni sono accompagnate da un significativo aumento della disoccupazione, una diminuzione dei salari, una perdita di fiducia dei consumatori e una diminuzione dei valori di tutto, azioni, alimenti, energia e servizi, con effetti a volte duraturi in tutto il mondo. In secondo luogo, insieme alla recessione di solito arrivano a diminuzione degli utili. Ogni trimestre le aziende riportano i ricavi e forniscono indicazioni sulle loro prospettive future, ma ultimamente hanno ridotto drasticamente le previsioni preparandosi a una crescita lenta o addirittura negativa, citando i grandi rischi di recessione a cui stiamo andando incontro. Ciò ci porta al terzo punto, i licenziamenti. Quando i consumatori guadagnano di meno, spendono di meno e quando le aziende vedono una minore domanda, iniziano a ridurre le spese, solitamente iniziando proprio dai dipendenti. In effetti, una rapida ricerca su Google per licenziamenti di massa mostra dozzine di aziende che stanno riducendo la loro forza lavoro e, secondo Bank of America, l'economia statunitense inizia a perdere 175.000 posti di lavoro al mese. Quindi, per quanto riguarda ciò che questo significa per te e i tuoi investimenti, nonché su come puoi utilizzare queste informazioni per guadagnare denaro, iniziamo con il primo punto, le azioni. Attualmente tutti e tre gli indici principali sono in ribasso tra il 20% e il 30%, con analisti come JP Morgan che credono che possiamo scendere ulteriormente del 20% dai livelli attuali. Tuttavia, se guardiamo alla storia dal 1946, la caduta media del mercato ribassista è stata vicina al 30%, con la più grave che si è verificata nel 2009, quando l'S&P 500 è sceso del 57% dal suo massimo. Tutto questo è per dire che generalmente il punto più basso si verifica quando gli investitori, per paura, iniziano a fare scelte sbagliate, e di solito questo è il momento in cui si possono fare i migliori affari. Ti dirò esattamente quanto puoi guadagnare sfruttando questa situazione nei prossimi minuti, ma prima dobbiamo parlare del secondo punto, l'immobiliare. Anche se ogni area è diversa e alcune località potrebbero continuare a prosperare, i cali nell'immobiliare a livello nazionale sono in realtà estremamente rari. In effetti, negli ultimi 60 anni ci sono state solo alcune occasioni in cui i prezzi sono scesi in modo significativo. Ora, generalmente i prezzi delle abitazioni a livello nazionale nei periodi di crisi scendono del 7%, con un peggior caso di calo compreso fra il 10 ed il 15% se i tassi di interesse dovessero continuare a salire. Ovviamente ogni mercato sarà diverso e i mercati più vulnerabili potrebbero vedere un calo superiore anche al 25%, con il calo che durerà ancora 12-18 mesi prima di toccare il fondo. Nel quadro generale, ciò probabilmente non farà una grande differenza per chiunque abbia un mutuo a tasso fisso e intenda rimanere nella propria proprietà per altri 5 o 10 anni, ma per chiunque voglia investire o comprare una casa, potremmo iniziare a vedere alcune opportunità che ci offrirà il mercato e di cui parleremo a breve, perché dobbiamo anche parlare del terzo punto, ossia il denaro contante. Fino ad oggi c'è sempre stata la mentalità secondo la quale il denaro contante stesse andando sprecato a causa dell'inflazione, ma quando tutti gli altri asset stanno perdendo valore, a volte il denaro contante può essere il posto più sicuro per conservare la tua ricchezza. E sai che è significativo quando persino un miliardario come Ray Dalio ammette che il denaro contante non è più da considerare spazzatura. La verità è che molte persone dimenticano che fino a poco tempo fa, nel 2018, il denaro contante era l'asset con le prestazioni migliori e se avessi semplicemente messo da parte i tuoi risparmi in un conto di risparmio ad alto rendimento, avresti superato di gran lunga il mercato. Il denaro contante sta diventando ora una parte così significativa del portafoglio che persino i miei gestori di fondi lo detengono nella più alta quantità dal 2001 e probabilmente il denaro contante è l'unico asset che gli investitori potrebbero utilizzare come cuscino di sicurezza durante una recessione. Ma se oltre che a preservare il tuo denaro ne vuoi guadagnare di più, ecco quello che devi sapere. Se ti chiedi perché questa prossima recessione potrebbe rappresentare un'opportunità che si verifica una sola volta in un'intera generazione, considera questo. In primo luogo, tutto diventa meno costoso. Dal mio punto di vista, anche se qualcuno potrebbe pensare che questo sia un cattivo momento per investire, tutto sta perdendo valore. Una persona ricca vedrebbe questa situazione come un'opportunità per acquistare le stesse aziende con uno sconto significativo? Infatti Warren Buffett ha davvero fatto la perfetta analogia a riguardo, dicendo che quando il prezzo delle bistecche scende, gli investitori gioiscono, mentre quando il prezzo delle bistecche sale, piangono. Per la maggior parte delle persone è la stessa cosa con tutto ciò che vogliono acquistare, tranne le azioni. Quando le azioni scendono e puoi ottenere di più con i tuoi soldi, la gente non le apprezza più, quindi innanzitutto cambia la tua convinzione, perché un mercato in ribasso potrebbe funzionare a tuo vantaggio. In secondo luogo, c'è meno concorrenza. Il fatto è che quando le cose si fanno difficili, le aziende si ridimensionano, chiudono, conservano il denaro e giocano sul sicuro. Ma ciò apre la porta a imprese più piccole e più aggressive per distinguersi e prendere il loro posto. Ad esempio, uno studio su 16.000 aziende ha scoperto che quelle che continuavano a fare pubblicità aumentavano il loro valore e ottenevano molta fama, seguita da molti anni di crescita positiva dopo la fine della recessione. Inoltre, ci sono molte più opportunità. In un certo senso, una recessione è il modo del mercato di eliminare i deboli. Ti faccio un esempio. Considera la nostra economia come una foresta. In una foresta, solo gli alberi o le aziende più grandi e consolidate hanno accesso a tutte le risorse, o in questo caso alla luce solare. Tutto ciò che si trova in basso ha difficoltà a competere e fatica a crescere. Ma proprio come i roghi naturali delle foreste, la nostra economia ha il modo di ripulire e far fallire ripetutamente le aziende che non sono più in grado di sostenersi, dando opportunità a imprese più piccole e nuove di continuare a svilupparsi. In quarto luogo, dopo ogni mercato ribassista, arriva un mercato rialzista. Come segnala Yahoo Finance, storicamente l'S&P 500 è sceso in media del 29% in una recessione, con una diminuzione mediana del 24%. Ma una volta che le azioni hanno raggiunto quel minimo, il loro rendimento medio nell'anno successivo è stato di circa il 40% e entro due anni il mercato è aumentato in media del 58%. Questo significa che investire durante il calo è molto più redditizio che uscire dal mercato e aspettare, e a lungo termine il mercato si è sempre ripreso in ogni singolo esempio che la storia ci ha fornito. E infine il quinto punto, devi agire prima che qualcun altro lo sappia. So che può sembrare facile pensare, perfetto, investirò durante una recessione, ma la verità è che le recessioni non vengono mai confermate fino a molto tempo dopo. Ad esempio, la grande recessione che è iniziata nel dicembre 2007 non è stata annunciata ufficialmente fino a dicembre 2008, solo pochi mesi prima della fine ufficiale della recessione. La recessione prima di quella è iniziata nel marzo 2001, ma non l'hanno chiamata recessione fino a novembre dello stesso anno, e questo continua con un ritardo di 6-12 mesi prima di sapere ufficialmente che siamo in una recessione confermata. Ma in termini di cosa puoi fare per trarre profitto da tutto ciò, ecco alcuni passi da seguire. Prima di tutto, riduci le tue spese. Ciò significa monitorare i tuoi investimenti, ridurre le spese non necessarie e operare in modo più efficiente, reinvestendo il più possibile nel mercato. Questo dovrebbe includere anche un piano su come far fronte a una possibile riduzione del reddito del 20-50%, come fare a compensare la differenza e se puoi prendere misure preventive in anticipo per proteggerti da ciò che potrebbe accadere. In secondo luogo, conserva del denaro. Sono fermamente convinto che, anche se statisticamente il tuo denaro è meglio investirlo il prima possibile, c'è qualcosa da dire sulla tranquillità di avere del denaro disponibile nel caso in cui dovessi affrontare una difficoltà. Per me il denaro deve darti la possibilità di cogliere le buone offerte che il mercato può proporti e soprattutto farti dormire tranquillo sapendo che qualunque cosa accada avrai qualcosa a cui fare riferimento. Un altro punto fondamentale è proteggere la tua carriera. Alla fine questa sarà la tua migliore protezione contro qualsiasi cosa possa accadere, poiché il tuo peggior scenario non è il mercato in ribasso, ma il mercato in ribasso contemporaneamente dà la perdita del tuo lavoro e alla necessità di vendere i tuoi investimenti al momento peggiore prima che abbiano il tempo di riprendersi. Quindi questo è il momento migliore per migliorarti, imparare nuove competenze e concentrarti su ciò che stai facendo attualmente. Ricordati anche di investire a lungo termine. La strategia più efficace quando si tratta di investire è semplicemente continuare come al solito e fingere che non stia succedendo nulla. È stato dimostrato che la pratica di acquistare regolarmente nel mercato è la strategia più redditizia, quindi rimani nel mercato e non farti prendere dal panico. Infine diversifica i tuoi investimenti. Se non riesci a sopportare una caduta del 20% senza panico, probabilmente è un segnale che stai investendo troppo aggressivamente. Ad esempio, se sei completamente esposto ad azioni di aziende tecnologiche statunitensi, potrebbe essere una buona idea aggiungere azioni di grandi capitalizzazioni e azioni internazionali al tuo portafoglio, oppure valutare investimenti immobiliari o diritti d'affitto, che tendono ad essere un po' più stabili. Più gambe al tuo portafoglio è meno probabile che collassi se una o due di queste crollano. In generale è anche un ottimo momento per raddoppiare il tuo lavoro, assumere un secondo lavoro e imparare il più possibile, perché qualsiasi cosa tu faccia oggi verrà ricompensata molte volte quando il mercato si riprenderà. Non sarà sicuramente facile, ma fai affidamento sul fatto che sarà gratificante per chi persevera. Ricorda che gli investimenti non sono una gara di velocità, ma una maratona, quindi impara anche ad avere un po' di pazienza. Grazie per la visione.